Gli Stati Uniti hanno alzato l'allerta coronavirus per l'Italia a livello 3, consigliando i propri cittadini di venire in Italia solo per questioni essenziali, ossia non venire per turismo. Riguardo a Lombardia e Veneto hanno alzato l'allerta a livello 4, il che vuol dire non andate in queste regioni. Per quello che riguarda altri paesi europei come Germania e Polonia hanno posto l'allerta 2, il che vuol dire che i cittadini statunitensi che arrivano in questi paesi devono prendere accresciute misure precauzionali contro il coronavirus. C'è però una categoria di cittadini statunitensi che sono esenti da queste norme. Sono 20.000 soldati USA che hanno cominciato ad arrivare nei porti e alcuni già negli aeroporti europei per la grande esercitazione che si svolgerà in aprile e maggio con la denominazione Defender Europe 20, cioè difensore dell'Europa 2020. Le prime unità stanno sbarcando dagli Stati Uniti nei porti di Belgio, Olanda, Germania, Lettonia, Estonia. Portano con sé qualcosa come 20.000 pezzi di equipaggiamento militare, che vuol dire, informano le fonti militari, che sono necessarie decine di migliaia di uomini tra militari e civili per scaricare tutto questo materiale. Poi tra poco arriverà il grosso dei 20.000 e arriverà in aeroporti, esattamente in sette aeroporti europei. Poi viene precisato che 6.000 di questi 20.000 provengono da vari stati degli Stati Uniti, cioè esattamente da 15 stati e sono membri della Guardia Nazionale dell'esercito. Una volta arrivati questi militari si uniranno a circa altri 10.000 militari statunitensi già presenti in Europa. Quindi un contingente di 30.000 uomini che poi si approvisionerà di altri materiali militari presso altri depositi che l'esercito USA in Europa, US Army Europe, ha costituito soprattutto in Germania, in Belgio e in Olanda. Una volta messa in piedi questa macchina bellica, inizia la grande esercitazione. Essa prevede che questi 30.000 soldati USA, a cui si affiancheranno 7.000 di altri paesi della Nato, Italia compresa, passeranno praticamente le frontiere da un paese all'altro. Sono previste esercitazioni in 10 paesi europei, quindi una esercitazione di grande portata. Pensate che in Polonia, cioè solo in Polonia, arriveranno 16.000 soldati USA con circa 2.500 veicoli, che vuol dire carri armati, blindati ed altri, che si eserciteranno esattamente in 12 aree prestabilite. Quindi questo dà la misura dell'ampiezza dell'esercitazione. Ad esempio, paracadutisti della 173 brigata avio trasportata USA distanza in Veneto, ricordiamo zona quindi a livello 4 come Wuhan, secondo Washington, andranno nelle Repubbliche Baltiche, in particolare Lettonia, per un'esercitazione congiunta insieme a paracadutisti della folgore provenienti dalla Toscana. Il Comando informa che l'Unione Europea, oltre la Nato, ha collaborato con il Comando europeo degli Stati Uniti per migliorare le infrastrutture europee, cioè in modo da far sì che unità corazzate, con vogli, si possano spostare rapidamente attraverso le frontiere da un paese all'altro. E quindi abbiamo anche la piena collaborazione e naturalmente i soldi dell'Unione Europea, ossia i nostri soldi, che vengono spesi in questa esercitazione. Ora, dato che questa esercitazione prevede un rapido trasferimento di forze militari dagli Stati Uniti in Europa per fronteggiare una minaccia, si dice, quale minaccia? Non viene detto, ma è chiaro a tutti, la minaccia russa, cioè una fantomatica invasione di carriarmati russi. Quindi vengono in Europa e devono dimostrare la loro capacità di muoversi rapidamente nel territorio europeo. Quindi i tempi, le procedure di questa esercitazione rendono impossibile un controllo preventivo sul coronavirus tipo quello esercitato verso i civili, perché i civili hanno oggi molte restrizioni, i civili subiscono poi il peso anche economico delle norme imposte per la prevenzione del coronavirus. I militari no. Quindi fra 30.000 statunitensi e 7.000 di altri paesi Nato avremo 37.000 uomini che passeranno tranquillamente frontiere eccetera e non ci sarà nessuno a provargli la temperatura o a fargli il tampone. Bene, cosa fanno le autorità europee, cosa fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità? Praticamente niente. Anzi, si fidano di quello che dice l'esercito statunitense in Europa. L'esercito statunitense in Europa assicura che sta attentamente monitorando la diffusione del coronavirus in Europa e assicura che le truppe statunitense sono in buona salute. Va bene, lo dicono loro. Nessun controllo però. E questo è un aspetto. L'altro aspetto che viene completamente trasciuto è quello dell'impatto ambientale di una esercitazione di questa portata. Cioè, nel momento in cui ci sono manifestazioni giustamente per evitare emissioni inquinanti eccetera, bene, si ignora l'impatto ambientale di una esercitazione con migliaia di mezzi militari ad alto inquinamento. Facciamo un esempio. Un carro armato Abrams, del tipo di quelli che arrivano ora in Europa dagli Stati Uniti per circolare sulle strade europee, pesa circa 70 tonnellate, 70 tonnellate, ed ha un consumo di 400 litri di carburante per 100 chilometri ad alto inquinamento perché deve ovviamente erogare la massima potenza. Ma di tutto questo non si parla. Quindi le autorità europee, le autorità quindi della UE, le autorità nazionali comprese quelle italiane, le autorità internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, si mettono la mascherina per il coronavirus. Solo che se la mettono non solo sulla bocca e sul naso, ma anche sugli occhi. Grazie a tutti.